Musica Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News a questa edizione Milano. I titoli? Musica No vax perché senza il green pass al ristorante. Proventi polemiche in regione per la decisione di affidare ad Aria la gestione della promozione turistica. La società era finita nella bufera un anno fa per i disservizi nella prenotazione dei vaccini. Un vagone ferroviario verrà posizionato nel cortile della casa di riposo di Corbetta. Si userà per la terapia del viaggio, un modo per stimolare la mente dei malati di Alzheimer. Musica Nella serata di ieri sono stati sgomberati alcuni senza tetto che bivaccavano nel tunnel della stazione centrale di Milano. Secondo il Comune si è trattato di un'opera per cercare di convincere queste persone ad andare in situazioni di maggiore sicurezza come ad esempio i dormitori comunali. Ma su questo fatto ci sono polemiche innescate dai centri sociali. I mezzi dell'AMSA, diverse decine di agenti della polizia locale e gli operatori dei servizi sociali del Comune affiancati dai volontari della Fondazione Arca. È un'azione imponente quella andata in scena la sera del 16 dicembre all'interno dei tunnel che passano sotto i binari della stazione centrale unendo via Ferrante a Porti a via San Martini. Obiettivo? Ingaggiare i senza tetto che trovano riparo notturno sugli stretti marciapiedi di queste gallerie ma che si espongono ai fumi delle auto oltre che alle violenze che negli anni si sono ripetute tante volte. Per questo il Comune si è attivato per agganciare chi vive e dorme in queste condizioni per convincerlo a spostarsi in uno degli spazi aperti nelle vicinanze con l'attivazione del piano freddo di Palazzo Marino. Come molti sanno la situazione in cui il tunnel era diventata una situazione insostenibile innanzitutto per le persone che dormivano là sotto con un grande pericolo e una grande insalubrità per loro stesse. Ieri l'intervento che è stato predisposto con la presenza delle unità mobili sociali a supporto dell'intervento ha proposto a tutte le persone di andare nei nostri centri. Alcuni hanno accettato, altri no e sappiamo quanto è difficile e complesso il lavoro per agganciare le persone e convincere a lasciare la strada e andare nei centri. Ma durante questa situazione così dura per il freddo dobbiamo convincere le persone a non stare in strada innanzitutto per la loro incolumità. Solo una parte dei senza tetto ha accettato dunque la proposta del comune. Gli altri sono stati costretti a lasciare il tunnel, abbandonando dietro di sé materassi, logori e i pochi beni di cui dispongono. Oggetti che sono stati gettati nel cassone posteriore di un camion dell'AMSA. Proprio questa azione ha attirato sul comune numerose critiche, in particolare da parte di associazioni legate al mondo della sinistra radicale e dei centri sociali. La polizia locale si è presentata in forza, denunciano in una nota, e gli assistenti sociali sono arrivati quasi 90 minuti dopo. Nessuno è ovviamente voluto rimanere tutto quel tempo solo con gli agenti. Queste persone sono state cacciate dai propri precari rifugi quando il cielo era già buio e senza neanche un giorno di preavviso. I residenti, gli ormai ex residenti della Torre dei Morograt, ci erano dato fuoco la scorsa estate, si sono visti richiedere l'IMU. Questo perché, per un incredibile cortocircuito burocratico, se la prima casa diventa inagibile, a quel punto è tassabile. Le famiglie residenti alla Torre dei Moro, andate in fiamme lo scorso 29 agosto, dovranno pagare l'IMU per il 2021 sul fabbricato incendiato, per via di una norma nazionale che spiega come, per uno stabile e inagibile, l'imposta sia comunque dovuta se risulta essere l'abitazione principale di un cittadino. E quindi, avendo perso il requisito di dimora, l'IMU dovrà essere saldata al 50%. A renderlo noto, il portavoce del Comitato dei residenti della Torre, Mirko Berti, abbiamo chiesto al Comune quale fosse il trattamento IMU per il 2021 e per gli immobili coinvolti nell'incendio, spiega. Palazzo Marino, come riporta il portavoce, ha risposto citando l'attuale normativa IMU, che stabilisce per i fabbricati inagibili la riduzione della base imponibile del 50% in relazione al periodo dell'anno durante il quale sussiste la condizione. Questo anche per gli immobili che costituiscono l'abitazione principale del soggetto coinvolto. Io, come quasi tutti, continuo a Berti, non ho mai pagato l'IMU quando era sana, in quanto prima casa. Adesso che è andata a fuoco, ce la chiedono al 50%. Secondo i residenti, ad essere mancata è stata la volontà politica da parte dell'amministrazione comunale. Berti si domanda come mai il Comune di Milano non abbia pensato a deliberare, per la Torre dei Moro, una liquota ridotta allo zero per il 2021, dato che per il 2022 è già stata promessa. Paura ieri sera a Corsico per il principio d'incendio in una palazzina. Per fortuna è andato tutto bene. Paura per un incendio divampato nella serata di giovedì in una palazzina di Corsico all'angolo tra via Monti e via Fiume. L'allarme è scattato dopo cena. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco oltre ai carabinieri della compagnia di Corsico. È un'ambulanza per sicurezza. È stato evacuato l'intero edificio e sono iniziate le operazioni di spegnimento dell'incendio, scoppiato secondo le prime ricostruzioni per un guasto elettrico. Sarà la relazione dei pompieri a chiarire ogni dettaglio. Le fiamme sono state domate in breve tempo prima che potessero raggiungere i primi piani dell'edificio. L'intervento è proseguito per tutta la mattinata di venerdì, ma già i primi inquilini erano stati riaccompagnati negli appartamenti. Sul posto anche il sindaco di Corsico, Stefano Ventura, è intervenuto sul luogo per verificare la situazione. I tecnici sono stati al lavoro anche venerdì perché in alcuni appartamenti non c'era ancora la corrente elettrica. Le fiamme avevano infatti bruciato alcuni cavi. Alcune famiglie hanno deciso di passare la notte fuori, ma non ci sarebbe una situazione di pericolo, secondo i vigili del fuoco che stanno effettuando tutte le verifiche del caso. Operazione della mobile per contro un traffico internazionale di droga tra gli arrestati e anche degli ultra del Milan. Utilizzavano telefoni criptati per scambiarsi informazioni sulle partite di cocaina e hashish provenienti dal Sud America e dal Marocco, organizzando pagamenti e trasporti e scambiandosi le fotografie della droga e dei camion usati per il trasporto, credendo di non poter essere scoperti. La sezione omicidi della squadra mobile di Milano è arrivata a loro, riuscendo a decriptare le conversazioni e a ricostruire il traffico di droga della banda. L'indagine ha portato a otto misure di custodia cautelare, tre arresti in carcere, quattro ai domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ai vertici della banda c'era Luca Lucci, noto capo ultra del Milan, già arrestato nel 2018 sempre per traffico di droga, sottoposto ad Aspo e sorveglianza speciale durante le indagini e ora fra i tre finiti in carcere. Altri due ultra del Milan sono i domiciliari. Gli investigatori della mobile sono partiti dal tentato omicidio del narcotrafficante Enzo Anghinelli, ferito alla testa con un colpo di pistole il 12 aprile 2019 in via Cadore a Milano. Seguendo alcuni filoni investigativi, la squadra mobile è arrivata ad un ultra della curva Sud, a cui sono stati sequestrati quasi 5 kg di marijuana tra l'automobile e la casa Capriano di Briosco in Monza Prianza. L'attività posta in essere da narcotrafficanti internazionali che, come tutti i narcotrafficanti, utilizza un determinato sistema per comunicare che è dato dai telefoni criptati, che, ripeto, fino a giugno scorso non erano mai stati intercettati prima. Quindi aveva la certezza della segretezza delle comunicazioni. Il sistema EncroChat è effettivamente un sistema di messaggistica criptata che è stato bucato soltanto a giugno scorso. Fino a quel momento le comunicazioni potevano avvenire in tutta sicurezza. E' stato, diciamo, hackerato attraverso un'attività, una joint adventure tra la polizia francese e la polizia olandese che sono riusciti a sequestrare parte del server che si trova in Olanda. La droga veniva trasportata in camion e furgoni, nascosta tra generi alimentari e consegnata nell'Interland milanese, per poi essere smistata agli acquirenti finali, intesi come ulteriori grossisti. Tra la droga intercettata, 10 kg di cocaina sequestrati nel porto di Santos, in Brasile, ad aprile 2020 e quasi 350 kg, sempre di cocaina, scoperti a bordo di una nave a seguito di un incidente. Le notizie sull'andamento della pandemia continuano a crescere i contagi in Lombardia, crescono anche le segnalazioni dei casi di variante Omicron. Sono saliti a 10 i casi di contagi con la variante Omicron del coronavirus scoperti in Lombardia e di questi 9 sono nel territorio della Tieste metropolitana di Milano e Lodi e uno in quella di Brescia. È ciò che emerge dall'ultimo report del Pirellone che ha evidenziato come i primi due casi rintracciati, subito dopo il funzionario dell'Eni contagiatosi con la variante sudafricana il 27 novembre scorso, sono nell'Odigiano due sessantenni di San Fiorano e di Codugno che si conoscevano tra loro e che si erano visti di recente e il sequenziamento del loro tampone è avvenuto il 3 dicembre scorso. Altri tre positivi alla variante Omicron sono stati individuati il 10 di dicembre nei laboratori del Policlinico di Milano e del San Matteo di Pavia. Il contagiato di Brescia è stato scoperto invece il giorno dopo e sempre l'11 dicembre un tampone positivo alla variante sudafricana è stato riscontrato ancora al Policlinico. Lunedì 13 poi ne sono stati analizzati altri tre. Tre i contagiati nel milanese, uno è di Magenta, gli altri di Milano e sono tutti under 30 vaccinati con la doppia dose e nessuno di loro aveva avuto contatti con gli altri. Uno però era appena tornato da Londra dove la Omicron rappresenta ormai il 40% dei contagi. Numeri comunque che sono destinati a crescere poiché ci sarebbero già altri tamponi sospetti di variante Omicron che stanno venendo analizzati dai laboratori in queste ore. Per la vicepresidente Moratti non è ancora il caso di preoccuparsi evidenziando come in Lombardia i casi siano ancora pochi. In regione sequenziamo tutti i tamponi molecolari che risultano positivi, ha detto l'assessore. Non a caso il primo contagiato da Omicron è stato scoperto al sacco. Prima di preoccuparsi credo che sia saggio aspettare di avere evidenze scientifiche che ci indicano i livelli di contagiosità e di pericolosità di questa variante. I numeri delle vaccinazioni sono in leggera crescita, come vediamo si è arrivati alle 550 mila in tutta Italia, 107 mila in Lombardia. Più evidente però purtroppo la crescita dei contagi sia a livello locale che a livello nazionale. E in tutto questo ci sono anche i controlli sul rispetto delle regole anticontagio e sul rispetto dell'utilizzo del Green Pass. In un ristorante di Milano c'è stata una raffica di multe di alcune persone che poi si è scoperto essere già note alle forze dell'ordine. Controllo della polizia giovedì sera in un locale di Via Cenisio a Milano per verificare il rispetto delle norme anti-Covid che dal 6 dicembre impongono l'obbligo del Green Pass rafforzato, ottenuto quindi con vaccinazione o guarigione per cenare all'interno dei locali. Al momento del blitz, portato a termine della squadra Pass e dagli uomini del commissariato Sempione, nel ristorante c'erano 120 persone, 21 delle quali non in possesso della certificazione verde anti-coronavirus. Molti di loro, stando a quanto poi verificato dagli agenti, erano già stati identificati in passato durante i cortei e le manifestazioni no Green Pass del sabato. Per ognuno di loro, la polizia ha elevato una sanzione da 400 euro, come previsto dalla legge. Ancora peggio, è andata al titolare del ristorante, un cittadino cinese sorpreso anche lui senza Green Pass. Per lui doppia multa, 400 euro per non aver controllato i clienti e altri 400 per essere sul luogo del lavoro senza la certificazione verde necessaria. Gli strascichi a medio termine del cambiamento e dello stile di vita a cui ci ha costretto la pandemia si sentono soprattutto fra gli adolescenti. Sono usciti nuovi numeri ricerche che fotografano un quadro preoccupante. Tristezza, disorientamento e autolesionismo sono solo alcune delle conseguenze psicologiche causate dalla pandemia negli adolescenti da un'indagine promossa da Fondazione Sole Terre e dall'Unità di ricerca sul trauma dell'Università Cattolica di Milano volta ad approfondire come gli adolescenti hanno vissuto la pandemia e quali risposte comportamentali, emotive e relazionali hanno messo in campo risulta evidente che si tratta di una fascia di popolazione grandemente in difficoltà e con una qualità di vita notevolmente peggiorata. Il 12% degli intervistati dichiara infatti di non sentirsi in forma il 36% afferma di sentirsi triste e il 17,3% pensa che sarebbe meglio morire o comunque di volersi fare del male. È stato poi chiesto a un campione rappresentativo di 150 adolescenti tra i 14 e i 19 anni quali siano i sentimenti e i pensieri prevalenti legati alla pandemia il 40,7% degli intervistati ha difficoltà a dare un senso a ciò che prova il 34% afferma di non essere in grado di controllare il proprio comportamento quando è turbato il 50% si arrabbia con se stesso quando si sente turbato il 64% del campione pensa inoltre che se la pandemia non fosse avvenuta oggi sarebbe una persona diversa il 69,3% afferma che l'evento è ormai diventato parte della propria identità e infine il 34,7% ha dichiarato di fare fatica ad addormentarsi credo vi sia un'urgenza che viene prima di tutte le altre prenderci cura della salute mentale dei bambini e degli adolescenti ha commentato Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Sole Terre se il 17,3% dei giovani dai 14 ai 19 anni continua Rizzi ha pensato che in relazione al proprio stato d'animo attuale sarebbe meglio morire o farsi del male stiamo parlando in valori assoluti di oltre 490.000 individui in potenziale pericolo e che necessitano di assistenza psicologica immediata per scongiurare esiti peggiori una particolare iniziativa per i malati di Alzheimer a Corbetta verrà collocato un vagone di un treno nel giardino della casa di riposo scopriamo perché l'amministrazione comunale di Corbetta porta avanti con la casa di riposo Don Felice Cozzi un'iniziativa che non ha e uguali nel Magentino un treno per gli anziani malati di Alzheimer il treno e la terapia del viaggio è il nome del progetto che verrà inaugurato con una vera carrozzata installare nel giardino della casa di riposo la terapia del viaggio è una terapia non farmacologica che già da diversi anni si usa per la cura e il benessere dei malati di Alzheimer perché è provato che far rivivere emozioni, far rivedere attimi di vita eccetera allievi un po' le sofferenze, tranquillizzi un po' le persone malate di Alzheimer ma gli aiuti anche a aumentare la propria percezione cognitiva e allora la nostra RSA ha espresso il diserio, il progetto di partire con questa terapia anche per i malati di Alzheimer del nostro territorio, della nostra città e allora a noi piace fare le cose per bene, in grande dobbiamo fare la terapia del viaggio abbiamo visto che in tante realtà italiane, francesi soprattutto ci sono queste stanze arredate come se fosse un treno e allora noi abbiamo detto ma perché dobbiamo fare arredare una stanza come se fosse un treno facciamo il treno davvero e allora ci è venuta l'idea di portare una vera carrozza nel giardino della nostra RSA e allora abbiamo coinvolto una serie di sponsor tecnici che si sono appassionati a questa idea e ci hanno aiutato, hanno già messo a disposizione, hanno già firmato degli accordi con la cooperativa Universis che gestisce la nostra casa di riposo e Trenord ha donato un vagone di un treno e DB Schenker si occuperà sia del trasporto che poi dei binari insieme ad altri sponsor tecnici le condizioni meteorologiche stanno favorendo l'accumulo degli inquinanti e da oggi sono scattate alcune restrizioni al traffico quattro giorni di aria irrespirabile e scattano i divieti lo smog torna a perseguitare gli automobilisti milanesi e della provincia a partire dalle 7.30 di venerdì 17 infatti i proprietari di motori fino a Euro 4 Diesel dovranno lasciare a casa la macchina e trovare dei mezzi alternativi la normativa regionale infatti prevede che in caso di superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 entrino in vigore le limitazioni temporanee di primo livello che innanzitutto accendono il semaforo rosso per alcuni tipi di veicoli in determinate fasce orarie negli ultimi quattro giorni le rilevazioni parlano di una media in provincia di 77,4 microgrammi e dunque via agli stop in tutti i comuni del milanese sopra i 30.000 abitanti le regole della regione obbligano a fermarsi tra le 7.30 e le 19.30 i veicoli benzina Euro 0 ed Euro 1 e quelli diesel con motorizzazione compresa tra Euro 0 ed Euro 3 anche se sono dotati di filtro antiparticolato stesso regime anche se con orari differenti il caso dei diesel Euro 4 che non potranno circolare tra le 8.30 e le 18.30 anche in questo caso il filtro antiparticolato non esenta dallo stop ma non solo la circolazione dei veicoli perché a spulciare il sito della regione si scopre che il primo livello di limitazioni prevede anche il divieto di sosta con il motore acceso per tutti i veicoli l'utilizzo di generatori a legna per riscaldamento domestico se ovviamente è presente un impianto alternativo e l'accensione di fuochi dai falò ai barbecue fino ai fuochi d'artificio e anche nelle case e nei negozi il termostato dovrebbe essere abbassato a 19 gradi centigradi le misure precisano da Palazzo Lombardia sono state attivate anche tenendo presente le condizioni meteo dei prossimi giorni che risultano essere tendenzialmente favorevoli all'ulteriore accumulo di agenti inquinanti e a guardare gli ultimi dati altre province lombarde potrebbero vedere attivati divieti simili sul portale info aria della regione infatti anche la provincia di Pavia ha superato per tre giorni consecutivi il limite di 50 microgrammi per metro cubo con picchi di 68 microgrammi Vi ricordate di Aria, la società di regione Lombardia che era finita nella bufera poco meno di un anno fa per il causa delle prenotazioni per i primi vaccini anti-covid che erano arrivati sul territorio ebbene, d'ora poi si occuperà anche di turismo ed è subito polemica Nella legge di bilancio previsionale per il triennio 2022-2024 approvata giovedì dal Consiglio regionale con voto favorevole della sola maggioranza e con il documento del collegato al bilancio votato il giorno prima dalla regione tramite un emendamento arriva il via libera alla fusione per l'incorporazione di Explora SPA la società regionale per la promozione del turismo all'interno di Aria SPA la centrale acquisti di regione Lombardia già nota alla cronaca per i disservizi e i malfunzionamenti durante la prima fase delle vaccinazioni contro il covid decisamente contrario alla fusione i consiglieri del Partito Democratico che evidenziano i danni che tale delibera comporterà da un lato a discapito della promozione turistica anche in vista delle Olimpiadi dall'altro dal punto di vista metodologico Con il bilancio di previsione per il 2022 Aria ingloberà e explora Aria è la società tristemente famosa in regione Lombardia per aver combinato diversi pasticci sulla vaccinazione degli over 80 sulla vaccinazione antinfluenzale sulle mascherine pannolino sui dati trasmessi a Roma che hanno costretto regione Lombardia una settimana in zona rossa non dovuta e adesso si occuperà anche di turismo tramite la partecipata Explora turismo veramente importante per il futuro di regione perché ci saranno le Olimpiadi e quindi è importante puntare sul turismo come elemento di sviluppo e di inclusione e invece la società che dovrebbe promuovere l'immagine della Lombardia delle sue valli, delle sue montagne dei suoi laghi, delle sue città viene inglobata in una società che già ha grandi difficoltà a funzionare e la cui missione è completamente diversa da quella del turismo Il turismo è fondamentale verso le Olimpiadi e qua cosa si fa? Si toglie l'ente strumentale che se ne occupa insomma un bilancio dal nostro punto di vista totalmente inadeguato che non prende atto del declino della Lombardia e non fa nulla per evitarlo Passaggio di proprietà per il teatro dal verme da città metropolitana al comune di Milano vediamo cosa cambia Un bilancio in sofferenza da un lato scuole e strade da manutenere dall'altro problemi che affliggono la città metropolitana di Milano che per fare fronte alle difficoltà ha deciso di vendere la propria metà del teatro dal verme a chi? all'altro proprietario ossia il comune di Milano nulla di cui stupirsi dal momento che le poltrone più alte di Palazzo Marino e di Palazzo Isimbardi sono occupate dalla stessa persona il primo cittadino, Beppe Sala L'operazione diventa quindi una sorta di partita di giro contabile per un valore totale di 16,9 milioni di euro con cui la città metropolitana potrà fare fronte alle spese di manutenzione delle scuole superiori di Milano e dell'Interland e delle strade statali Città metropolitana infatti gestisce circa 150 istituti scolastici superiori metà dei quali si trovano all'interno del capoluogo Lombardo Il comune dal canto suo immette nel suo già ricco patrimonio immobiliare è un edificio di grandissimo pregio a meno di 100 metri da Piazza Cairoli l'atto di compravendita e dunque l'ufficiale passaggio di consegne è fissato per il 22 dicembre di sicuro un bel regalo natalizio per le casse della città metropolitana Iniziativa di solidarietà per Natale a Magenta parte dalla politica La pandemia ha colpito duramente la nostra città e sono molte le famiglie che vivono in condizioni di fragilità sociale ed economica per questo abbiamo deciso di metterci a disposizione anche quest'anno per dare un sostegno alla comunità apriremo il nostro circolo per raccogliere beni di prima necessità che verranno distribuiti dalla rete di associazioni presenti sul territorio Così il PD di Magenta ha spiegato l'iniziativa Natale in Circolo Anche quest'anno abbiamo deciso di metterci in gioco di fare la nostra parte nell'aiuto in quello che può essere un aiuto, un sostegno in più a tante famiglie magentine che vivono un momento di difficoltà Come sappiamo la pandemia è ancora purtroppo una ferita aperta per il nostro paese ma oltre al virus c'è anche una pandemia socio-economica ovvero le conseguenze portate dal virus hanno creato tanti disagi nella cittadinanza di conseguenza abbiamo pensato di aprire le porte del circolo a un'iniziativa di solidarietà che per questo si chiama Solidarietà in Circolo ovvero un punto di raccolta alimentare per permettere alla cittadinanza che vuole contribuire di raccogliere un po' di alimenti e di beni di prima necessità che poi saranno donati alle associazioni del territorio che sono a contatto più stretto con le famiglie bisognose al fine di garantire un supporto in più in vista del Natale Questo è un obiettivo che come Circolo abbiamo inaugurato l'anno scorso nel primo anno di pandemia e che vogliamo portare avanti perché crediamo che anche un piccolo gesto come questo possa fare la differenza insieme all'impegno politico, all'attività che ogni giorno portiamo avanti per il bene della nostra comunità L'edizione a Milano si conclude qui tra poco l'edizione Pavia a Milano si conclude qui